Il prefetto di Salerno, Francesco Russo, si appresta a lasciare la provincia per il nuovo incarico assegnatogli dal Consiglio dei Ministri dello scorso 18 ottobre, che lo vedrà alla guida della Prefettura di Bari. Ultime ore dunque a Salerno per il dottor Russo, che ha voluto scrivere una lettera di saluto, in cui ha ripercorso brevemente questi cinque anni trascorsi a Salerno, ma soprattutto ha voluto imprimere su carta il profondo affetto che riserve e riserverà l'intera provincia di Salerno. Una lettera in cui ha ripercorso quanto fatto, evidenziando come le criticità che ha dovuto affrontare partendo dall'emergenza Covid sono state comunque prove delicate ma fondamentali per comprendere appieno il valore delle comunità salernitane. Questi anni salernitani, scrive nella missiva il dottor Russo, non sono stati solo scanditi dal trascorrere degli innumerevoli impegni che hanno affollato la mia agenda istituzionale, ma per me, come per tutti voi, è cambiata la percezione del mondo. Ognuno di noi porterà sempre dentro di sé la linea di demarcazione che è stata tracciata dalla terribile emergenza pandemica. Le esperienze maturate nell'arco di questo tempo, scrive ancora, tra tutte le enorme responsabilità di attuare le decisioni governative e di vigilare sulla loro applicazione in modo rigoroso ma attento ai bisogni alle difficoltà di ciascuno di voi, sono state e resteranno per me un patrimonio indimenticabile di arricchimento professionale ma soprattutto umano. Sulla pandemia in particolare il prefetto russo si è soffermato come esempio di unità e di senso civile della comunità salernitana. Ricordando inoltre le tante altre emergenze affrontate come guerra, cambiamenti climatici, fenomeni migratori, il prossimo prefetto di Bari ha voluto sottolineare in particolare l'unità con cui le criticità sono state affrontate. Sono sempre stato convinto, scrive, che da soli non si va da nessuna parte e sono fiero di dire ad alta voce che le istituzioni e la società civile salernitana hanno dato una risposta compatta e positiva. Non manca poi il saluto a quanti hanno condiviso con lui le tante iniziative adottate a tutela della sicurezza dei cittadini e nel suo saluto ha voluto soprattutto mettere in evidenza la bellezza dell'intero territorio salernitano lasciando anche una raccomandazione. Amate e difendete questa terra, ha scritto il prefetto Francesco Russo, una delle più estese belle del mondo. Preservate il territorio dalle aggressioni dell'uomo e della natura, cercate di mantenerlo intatto prendendovene cura non solo nelle emergenze ma soprattutto nelle attività di prevenzione e manutenzione. Restate e costruite, non abbandonate i meravigliosi borghi che popolano questa provincia, meritano una seconda possibilità. Sono certo, scrive in conclusione, che la città di Salerno e tutto il suo territorio con il legittimo orgoglio di un illustre passato possono sviluppare potenzialità economiche, sociali e culturali che assicurino di mantenere e consolidare quel ruolo di rilievo che questa provincia compete. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti